per noi sono piccoli doni divini a cura di vb che cosa sono i piccoli doni divini per noi sono gli apporti e in genere le materializzazioni di piccoli oggetti che avvengono durante le riunioni medianiche gli apporti appaiono in luoghi dove prima non esistevano o nel caso di asporti scompaiono dai luoghi dove prima esistevano per la nostra esperienza gli asporti qualche volta ricompaiono mentre altre volte scompaiono definitivamente perché doni divini perché così ha chiamato gli apporti l'entità enzo la guida fisica del cenacolo umanità in movimento nelle prime pagine di questo libro pubblichiamo la foto di un apporto materializzato presso questo cenacolo la guida ha parlato di doni divini per indicare i piani superiori di esistenza da cui gli apporti provengono i piani per quanto riguarda i fenomeni fisici sono il piano mentale dove l'oggetto è concepito e concepito il piano astrale da dove l'oggetto si materializza nel piano fisico chi è pronto può riflettere anche sul fatto che ogni volta che diciamo ascoltiamo la frase ti stavo chiamando ti stavo pensando siamo testimoni di un fenomeno spirituale diffusissimo infatti anche la telepatia proviene dal piano superiore di esistenza chiamato piano mentale i maestri immateriali avvertano però che come accade per la telepatia che è un fenomeno del tutto inconsapevole non tutti gli apporti avvengono per l'intervento di entità alcuni sono prodotti dallo psichismo del medium che è un'esclusiva attività mentale dello strumento spesso per particolari motivi di divulgazione negli apporti interviene la regia di entità chiamate guide fisiche gli apporti appartengono alla tipologia dei fenomeni fisici ma diventano sempre più rari perché i maestri dopo aver scosso nei secoli precedenti attraverso vari strumenti l'attenzione della gente con imponenti fenomeni fisici iniziano adesso a dare spazio agli insegnamenti spirituali ed ecco i grandi cenacoli che per decenni erogano insegnamenti sempre nuovi che noi chiamiamo anche strutture di pensiero perché sono capaci di rispondere agli eterni interrogativi sulla vita e sul dopo vita